Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui su GTA V per parlare di Rockstar e dei cambiamenti che Rockstar fa in questi giorni O comunque da quando è uscito il nuovo DLC Non perdiamoci in chiacchiere, prima di iniziare io vi invito a lasciare un bellissimo like a questo video Così da supportarmi e da farmi vedere la vostra presenza Iscrivetevi al canale della società con iscritti e commentate qui sotto facendomi sapere se anche voi avete notato qualcosa che è cambiato nel tempo Insomma avete visto che c'è una differenza così E soprattutto fatemi sapere se questa cosa che vi farò vedere in questo video vi è capitata qualche volta Detto questo ragazzi direi di iniziare Allora il DLC del casino è il DLC più bugato che io abbia mai visto onestamente E Rockstar ci ha messo anche un bel po' di tempo prima di farlo uscire Proprio perché sicuramente avrà riscontrato dei bug che ha dovuto risolvere Beh una volta che è uscito non è che era poco bugato Anzi ci sono un sacco di bug all'interno del casino Che comunque possiamo sfruttare per farci un bel po' di soldi Basta che vedete il mio precedente video e capirete come fare soldi facilmente con il casino Per confermare che il DLC del casino è stra-bugato Beh basta vedere che Rockstar ha fatto uscire un aggiornamento Praticamente un giorno dopo dell'uscita ufficiale del casino Infatti quell'aggiornamento sicuramente è servito per sistemare alcuni bug che si sono venuti a creare Beh sappiamo bene che comunque Rockstar riesce a risolvere i glitch e i bug Senza dover far scaricare nessun aggiornamento Lato server infatti uno di questi diciamo hotfix che ha fatto Rockstar Riguarda gli inside tracks ovvero la corsa dei cavalli Beh qui sappiamo bene dato che comunque c'è il glitch dei soldi E ormai siamo diventati degli esperti di corsa sui cavalli Che ogni cavallo ha una propria probabilità di vincita E che quindi su quello si baserà la nostra puntata E ogni qualvolta che ci collegheremo insomma nella corsa dei cavalli Beh riceveremo appunto una lista di cavalli Che non cambierà fino a quando noi non scommettiamo appunto su questa corsa E appunto dopo i cavalli saranno differenti Oppure se la lista dei cavalli non ci soddisfa Insomma non ci piace Possiamo anche semplicemente uscire e rientrare dal monitor Questo significa proprio uscire dall'applicazione insomma dal computer E rientrare E da quel momento in poi la lista dei cavalli è differente E questo molte persone lo potrebbero usare insomma per trarre benefici Beh Rockstar a quanto pare ha fatto un aggiornamento E non è più così Infatti se noi usciamo e rientriamo troppe volte O troppo velocemente tante volte Beh il gioco se ne accorgerà E ci caccerà dall'inside track Infatti non potremo più utilizzare il pc per almeno un'ora Almeno questo è quanto dice Tez Fan Insomma un insider che si mette lì e scopre tante cose su GTA E infatti Tez Fan ha ragione Non potremmo più giocare Ma non per un'ora In realtà potrebbe succedere che O ci banna diciamo banna Non è che ci blocca l'accesso per un'oretta Oppure potete provare a cambiare sessione Cambiando sessione forse sia giusta In realtà c'è ancora un metodo molto più semplice Vi basta andare in qualsiasi slot machine E giocare due o tre puntate Due o tre partite a caso Una volta fatto ciò potete recarvi nuovamente nell'inside tracks E non avrete nessun tipo di problema Credo che questa cosa funzioni Perché sbagliamo Insomma cambiamo Il numero delle fish che abbiamo Insomma lo aumentiamo Lo diminuiamo perdendo delle fish E quindi l'inside tracks In questo modo si riesce a sbagare Infatti quando insomma ci blocca l'accesso È proprio per questo motivo Perché non abbiamo fish a sufficienza Per giocare all'interno dell'inside tracks Ed è una cosa strana Perché comunque io avevo 50.000 fish E non mi faceva giocare con questa scusa E diciamo che Rockstar ha fixato questo piccolo problema Proprio così Dicendoci che non abbiamo fish a sufficienza Oltre a spostarci su una slot machine Per cambiare il numero di fish E quindi sbagare l'inside tracks Possiamo prevenire questa punizione Semplicemente cambiando il monitor E non intendo cambiando il monitor Quando ormai ci ha punito Bensì ogni volta che vogliamo cambiare Le probabilità della lista dei cavalli Bisogna cambiare postazione E quindi cambiare i monitor Io ora non ho provato questa cosa E non posso darvi conferma Però fatemelo sapere qui sotto nei commenti voi Se dopo un tot di volte Non vi da più nessuna punizione Tentar non nuoce Quindi aspetto le vostre considerazioni Comunque questa cosa Rockstar l'ha fatta Per evitare che le persone Puntino sui cavalli Che insomma vogliono l'oro Diciamo che prima questo Era un metodo per fare dei soldi con il casino Perché questo poteva avvantaggiarti Nelle probabilità Infatti si poteva scegliere il cavallo migliore Sul quale puntare Tipo l'1-1 Anziché il 4-5 Che ha meno probabilità Rispetto Insomma avete capito Sicuramente ormai siete diventati degli esperti E quindi questo diciamo glitch Che ora non è più un glitch Perché è stato fixato Poteva essere usato per portare le probabilità Verso la nostra parte E quindi vincere più soldi Diciamo che se fate così Rockstar automaticamente vi becca E vi punisce in questo modo Poi non si sa se in futuro Se noi facciamo ancora così tantissime volte Ecco possa peggiorare Diciamo la punizione Ci tengo a precisare che questo hotfix Non va a sbagare A sistemare O comunque a punire Chi usa il glitch Della corsa dei cavalli Quello per vincere sempre E quindi puntare 200 dollari E vincere la quota massima Il video che ho fatto anche precedentemente Riguardava appunto questo Quindi non vi preoccupate Se usate quel glitch Non vi sta punendo per quello Bensì per altro Sicuramente Rockstar Primo o poi risolverà Anche quel glitch Come ha fissato questo qui Quindi non vi preoccupate Però state attenti A non Incasinarvi la vita Facendo questa cavolata Senza che magari Ne sapevate niente Perché potrebbe succedere Infatti magari Voi non ci avete neanche fatto caso Perché il vostro interesse Non era quello Ma magari fare l'altro tipo di glitch Rockstar ha fissato Questo tipo di problema Perché nel casino L'inside track È uno dei pochi metodi Per vincere quasi sempre O per portare Diciamo Le probabilità Verso di noi E quindi usarle A nostro favore Cioè a me sembra un po' strana La cosa che Rockstar Comunque risolva Questo glitch minore Del fatto che si Cambiano le probabilità Dei cavalli Piuttosto che il glitch Che appunto Possiamo fare tantissimi soldi Puntando pochissimo Cioè a me mi sembra Proprio un complotto Ma è possibile sta cosa Va bene Ottimo per noi Però non vi sembra strano Anche a voi Cioè un glitch Come appunto Portare le probabilità Verso di noi Non è così sicuro E così buono Come quello Che stiamo utilizzando In questi giorni What the fuck Vabbè Comunque meglio così Vabbè Fatemi sapere Se voi usavate questo glitch Per cambiare le probabilità Dei cavalli E ora non si può fare più Però per tenervi aggiornati Ecco vedete il video precedente Che vi farà fare Un sacco di soldi In pochissimo tempo Grazie al casino Fatemi sapere Se a voi è capitato Qualcosa di simile Ho voluto fare questo video Sia per informarvi Sia anche per tranquillizzarvi Perché molte persone Vanno detto che Eh mi hanno bannato Dal casino O dall'insertrack E non capisco se Per questo motivo Se voi avete quittato Insomma il sistema Vi ha un attimino bloccati Oppure si tratta Di un'altra cosa Ecco comunque Signori State attenti A non Giocherellare così Con il computer Dall'insertrack Uscite E rientrate Pochissime volte Possibilmente O comunque Non spammate Non fatelo velocemente Perché a quanto pare E' proprio su questo Che si basa Sul fatto che Si esce E si rientra Velocemente Non ho fatto moltissimi test Quindi non vi so Dire effettivamente Come aggirare Diciamo questa cosa Però Se voi scoprite Qualche sistema Beh Fatcelo sapere Qui sotto Nei commenti In ogni caso Aspetto delle vostre informazioni Qui sotto Nei commenti Come sempre Rockstar E' lì In allerta Per fixare Alcuni problemi Alcuni però Detto questo Io aspetto Delle vostre Considerazioni Qui sotto Nei commenti E spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video E Ciao ciao Ciao